le prossime tappe istituzionali in agenda. I Lombardi vanno sempre più al ristorante, secondo il rapporto di ConfCommercio nella nostra regione si spendono oltre 14 miliardi di euro l'anno per pasti fuori casa, ciò nonostante chiudono molti locali. 1266 euro all'anno in Lombardia, se ne vanno in pranzi o cene fuori casa. Lo rileva il rapporto ristorazione di Fipe ConfCommercio, in cui si sottolinea in particolare come i pranzi, i ristoranti, i bar e i trattori, rappresentino ormai il 35% dei consumi alimentari delle famiglie. Terzo anno consecutivo di crescita a livello nazionale per il settore, che nel 2016 mette a segno un più 1,1% a fronte del calo fatto registrare dai consumi alimentari domestici, diminuiti dello 0,3%. E questo aumento di quello che è il fuori casa italiano è giustificato essenzialmente da due elementi. Il primo è un fatto culturale, l'italiano che ama gli aspetti della convivibilità, dello stare insieme, per cui ricerca queste formule di aggregazione, e l'altro è la qualità del modello del pubblico esercizio italiano. Ma nonostante il forte afflusso, un ristorante su due chiude. Colpa, dice il presidente della Fipe, dell'eccessiva improvvisazione di molti imprenditori, un fattore che rischia di minare la qualità della ristorazione made in Italy. Questo è uno dei motivi che ha spinto la federazione degli esercenti pubblici a lanciare una business school. L'obiettivo è quello di portare informazione e formazione agli esercenti, quindi ai pubblici esercizi che fanno parte del mondo della federazione. Oltre 14 miliardi il valore dei consumi fuori casa generati in Lombardia lo scorso anno. Le imprese del settore sono 50.000, 150.000 le addetti. Grazie.